Direttore, qual è il bilancio della campagna di vaccinazione nella città di Napoli? Possiamo dire che alla data odierna siamo arrivati a vaccinare circa il 71% della popolazione residente a Napoli, Napoli, Capri e Nanacapri. Nell'isola di Capri il dato invece si è attestato sul 78% della popolazione residente, ovviamente maggiore di 12 anni d'età. Quante persone mancano ancora all'appello? Allora, mancano circa 200.000 persone suddivise tra le varie fasce di età e adesioni che diminuiscono soprattutto nelle fasce di età tra i 40, i 50, i 55 anni. Per quanto riguarda invece il dato della città di Napoli, quante persone sono state vaccinate e quante ancora mancano? Nella città di Napoli sono state vaccinate oltre 600.000 persone, al momento sono circa 200.000 persone quelle potenzialmente elegibili. Quindi, insomma, ancora un numero considerevole? Un numero considerevole, ovviamente a queste vanno comunque poi sottratte le persone che sono risultate positive al Covid e che sono state affette al Covid o che per vari motivi non si sono potuti vaccinare. Ricordiamo che chi ha avuto il Covid si può vaccinare, insomma, entro i sei mesi con una sola dose? Assolutamente, anche entro i 12 mesi con una sola dose, appunto decorrendo dalla data del tampone positivo. Questa è un'informazione importante perché molti cittadini vengono con un tampone antigenico, deve essere un tampone molecolare registrato in piattaforma Sinfonia. Dottore, invece per quanto riguarda l'isola di Capri, anche il comune di Anacapri, territorio di competenza e l'asta Napoli 1 Centro, quali sono i dati circa la vaccinazione? Nell'isola di Capri, comuni di Anacapri a Capri, l'adesione è stata circa il 78%, possiamo immaginare ovviamente che grazie ad una maggiore azione capillare da parte delle autorità locali e dei sindaci si sia riuscito a raggiungere un risultato che è superiore a quello di Napoli e probabilmente superiore anche alla media nazionale, ci avviciniamo all'80%. Ha influito anche il programma della Regione Campania, Isole Covid Free? Sicuramente abbiamo prestato una particolare attenzione alle isole di Capri, ricordo che abbiamo iniziato a febbraio a vaccinare a Capri, siamo riusciti a rendere praticamente tutta la popolazione vaccinata, ma non solo la popolazione ma anche tutti i lavoratori dell'isola di Capri e li abbiamo vaccinati prima che iniziasse la stagione turistica. Le isole hanno ben tenuto il flusso turistico per quanto riguarda i dati Covid, lo riscontriamo anche a Procida Ischia che è Aslan Napoli 2 Nord ma anche Capri che è sotto la vostra giurisdizione? Assolutamente, le isole hanno tenuto Capri in particolare anche grazie a un protocollo che abbiamo sviluppato con i sindaci e con la Conf Commercio, con la Conf Alberghi, abbiamo adottato un protocollo in maniera tale da identificare immediatamente positivi e avevamo dato anche la disponibilità a ricovero per le persone asintomatiche presso il Covid Residenza di Napoli. Direttore, rispetto all'anno scorso di questi tempi la situazione è sicuramente migliore, si parlava di chiusure a ottobre 2020 mentre il Governo ora sta attuando ulteriori aperture, i vaccini allora servono? Assolutamente, si parlava di chiusure in ambiti di varie attività, qua si parla ora di riaperture anche in ambito sanitario, stiamo riaprendo strutture, ci stiamo riallargando sul territorio, stiamo programmando nuove attività e stiamo cercando di recuperare il tempo perso. Non affollare gli ospedali consente anche poi di curare persone per altre patologie? Assolutamente, abbiamo in atto un programma per il recupero delle liste di attesa che riguarda soprattutto i pazienti oncologici ma anche tutte le persone che hanno rinunciato per vari motivi a visite durante il periodo Covid e abbiamo un intenso programma di recupero per cui stiamo chiamando tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di accedere a visite e a ricoveri durante il periodo Covid. Ed ora la San Napolino Centro sta lavorando anche per la somministrazione delle terze dosi, ci può spiegare ora chi le state facendo? In questo momento le stiamo facendo agli ospiti delle RSA, le stiamo facendo alle persone con età maggiore di 80 anni e le stiamo facendo alle persone con compromissione del sistema immunitario tale da richiedere una terza dose e abbiamo iniziato anche con gli operatori sanitari che sono stati già vaccinati nel mese di febbraio-marzo. Poi via via si passeranno le altre categorie che si sono vaccinate già dall'anno scorso? Sicuramente, ovviamente sempre nel rispetto delle indicazioni nazionali che stabiliscono la cadenza delle fasce di categorie di persone che possono ricevere la terza dose che ricordo viene offerta in questo momento agli over 80 che possono recarsi presso qualsiasi centro vaccinale della Napoli 1 e ai operatori sanitari che hanno avuto già le prime due dosi vaccini. Un ultimo messaggio invece per quanto riguarda le donne in dolce attesa o in fase di allattamento. Anche per loro è possibile fare il vaccino? Assolutamente sì. Ovviamente è previo confronto con il medico vaccinatore ed esponendo tutta la situazione sarà valutata ma c'è assolutamente indicazione e possibilità di effettuare il vaccino. Un suo messaggio per sensibilizzare i cittadini a vaccinarsi. Come potrebbe convincerli o rassicurarli? Noi abbiamo a disposizione tutti i nostri centri vaccinali. Sono a loro disposizione in qualsiasi momento. Ricordo che attualmente funzionano i centri vaccinali della Mostra d'Oltremare, della Fagianeria, ancora il centro dell'Hangar, ma tutti i medici di medicina generale, le farmacie ed i nostri distretti. Quindi abbiamo facilitato l'accesso a tutti i cittadini che per vari motivi non hanno avuto ancora la possibilità di vaccinarsi. I dati li vediamo. Nei nostri ospedali ci sono sempre meno pazienti covid ed in ogni caso chi si è vaccinato e avesse contratto il covid lo contrae in una maniera molto molto più blanda rispetto a chi non ha avuto la vaccinazione. Mentre ora anche se la situazione è sotto controllo vediamo che la maggior parte dei ricoverati negli ospedali sono non vaccinati. Assolutamente sì, questo è il dato. Riscontriamo che chi si ricovera negli ospedali in questo periodo sono fondamentalmente persone non vaccinate. In ogni caso ribadisco tutti i casi più gravi si tratta appunto di persone non vaccinate. Grazie.